Giacomo, prima impressia. E' un po' come essendo nato in Venezuela, ci sono i barrios, le favelas. Io sono stato nelle favelas. Hai stato? Mi l'ha fost. Bine hai venito. No, io sono lato in casa. Giacomo. Giacomo. Una famiglia. Una famiglia. Una famiglia. Sì. C'è ancora qua 300 bambini. C'è complicato a Giacomo. È molto complicato. Ti sembra complicato? C'è ancora. C'è ancora 300 bambini. Quanti bambini? Sembra bambini? Sembra bambini? Sembra bambini. Sembra bambini? Siamo... Hai mamma, mamma. Sembra bambini? Sembra bambini. Sembra bambini. Non sono una persona. Non mi-a dat. Asta è? Dice Vallea Plangerea asta? Dice che è miseria. E microfin. Musica Il partito Zingari Lomeni E tu? Il presidente Il presidente del partito De questa città Questa, questa città? No, no, tutti i Lomeni da questa città, da Baia Mare Baia Mare rappresenta i Rom Ho visto dei reportati in Francia Ci puneau intrebări unui reporter care au fost acolo Ce caută ei acolo să cercească? E dicono, perché i Romani vengono in Francia a fare le modi? Perché non vivono in Romania? Vedete-se in situație fresche aici Vedi qui come stanno vivendo, perciò vanno via di qua Se non aveți impressi a che singura località ti vai a fare Questo è uno squarcio, ce ne sono tante altre In Romania maggiormente è così, vivono in questo modo Vino, il punto di vedere Francia Cercherò, se me lo permettono, di farlo vedere in Italia Si da chiede-se vuoi È il mio contributo che posso dare Un po' in Francia Conorthere In Italia Per fare le mani È il mio interesse Fiammi in Sprevo Conor��로 e si dezvolta e si sa lo scopero ma non sa lo romana e si lo stiamo si stiamo da da un'esu'e in Italia non si chiudia sa vadà o me intreab l'eo come ti chiama L'eo'e? 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 Cosa faccia? Cosa faccia? Cosa faccia? Da, la Domnul è bene. Da, certo. De unde ti dai seama che il duce bene? C'è il sta departe, e se non sta in tasa alti come stai io. Tra due, zi, c'è... Il sta departe, tu stai bene, se lo metta la questa realtà. Asa è, Domnul. La Domnul, sta mai bene, e un serac, va di capo. E bene, asa è. Io mi dico bugie. Nu spune minciune, asa è. Container. 29 de zile a tenut-o la arest, a gosut niste porodiți si cartofi in container, cum a tupat de la Prozan. Hai aici, orbita. Ce am oric? Aproape. Să-ti vad ochii. Un pic, le trimează. Sensibil. Un pic, le trimează. Un pic, le trimează. Un pic! Noi ci chiedono Terezo! Saluti da! Vai Giacomo! Ce fai da mancare? Ce fai da mancare? Ce fai da mancare? Ce fai da mancare? Faccio un regalo! Come stai? Penso di in Italia! Merci! E' una realtà molto 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 forte Sono stato nelle favelas Ma forse le favelas in Venezuela? Argentine In Argentina? In Brasile? No, queste qui sono... Da raice e chiare Il freddo è... Ci fai da devoratela C'è anche una favela Qui c'è un fattore che è molto importante Che c'è freddo Inizia faccio il frinca Ma guarda qua è caldo Ehi, ehi, ehi Allora nelle favelas, nei paesi caldi Comunque hanno la frutta Cioè riescono comunque ad avere... L'acqua è corrente Perché arriva l'acqua fresca dalle montagne Giacomo, Giacomo Su Flatbull A dove hai detto? Essi su Flatbull È un cuore buono Sono un padre De ce crezi che ti am adus aici? Per questo potete vorrei Grazie Grazie Ci c'è un messaggio In questa città In Italia In Italia In Italia In Germania In Mondorfiei In Italia 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 Grazie a tutti.